Ciao a tutti! Io sono Mariangela e questa è la prima diretta sul gruppo La Cucina degli Dei. Oggi vi preparo un contorno con peperoni e zucchina e lo faccio nella fantastica pentola quadrata che oggi è in super offerta e quindi volevo farvela vedere. Procediamo, poi vi spiego un po' le caratteristiche di questa pentola e soprattutto l'offerta che non dovete assolutamente perdere. Allora iniziamo, mettiamo un poco di olio, la cipolla tritata e uno spicchio di aglio e poi mettiamo i peperoni. Io ho messo un peperone rosso e un peperone giallo e poi una grossa zucchina. Potete aggiungere anche dei pomodori, quello che vi pare, le melanzane ad esempio, insomma come volete. Metto anche poco 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 di acqua, non tantissimo. Il nostro coperchio e accendo a fiamma media giusto qualche minuto il tempo che si appassiscono un po' le nostre verdurine. Poi andremo ad aggiungere le altre cose. Vi parlo un po' di questa pentola fantastica. Questa è una pentola antiaderente come tutte le pentole magic cooker non contiene metalli pesanti quindi niente nichel, niente piombo, niente cadmio soprattutto niente pfoa che è altamente tossico, un materiale altamente tossico e le nostre pentole non ce l'hanno. È molto bella perché è quadrata ed è molto capiente è alta a 10 centimetri quindi ci si può cuocere parecchie cose forse posso dire che è la pentola che uso di più noi siamo in quattro ed è quella che uso di più poi col fatto che è quadrata riesci a sfruttare tutto lo spazio e ci si può cuocere di tutto soprattutto è adatta alle lasagne ad esempio alla parmigiana proprio per il fatto della forma i timballi, gli sformati ma tutto, risotti, pasta, la carne arrostita le verdure al vapore di tutto, insomma di tutto è molto bella è quella, ripeto, che probabilmente uso di più perché è proprio capiente allora, vediamo un po' le nostre verdurine che si stanno appassendo avevo nel frigo questi due peperoni da un po' di giorni quindi ho pensato di fare questa ricetta e di farvela vedere ripeto, a volte metto anche la melanzana che è molto buona ho solo i peperoni insomma potete mettere i pomodori un po' di polpa di pomodoro oggi non me li trovavo i pomodori quindi non li ho messi aspettiamo ancora qualche minuto e poi ci aggiungiamo le altre cose io ho messo tutto insieme olio e verdure perché preferisco fare così e velocizzare però se voi solitamente siete abituati invece a fare prima il soffritto va benissimo lo stesso anche perché come sapete il soffritto fatto con magic cooker non è un soffritto perché l'olio non arriva mai al punto di fumo e quindi non ci fa male quindi volendo uno dice voglio fare il soffritto lo faccio ma così viene bene lo stesso io metto tutto insieme e mi sbripo prima per fare altre cose allora adesso aggiungo le olive e i capperi un po' di sale poco poco perché cucinando con il metodo magic cooker non c'è bisogno di aggiungere molti insaporitori perché metto anche un po' di origano perché le proprietà degli alimenti rimangono tutte all'interno e quindi non è necessario andare ad insaporire molto poi al massimo a fine cottura se no potete assaggiare adesso ci vorrà veramente poco poco tempo poi il tempo comunque dipende da come piacciono a voi le verdure se vi piacciono più croccanti scocchiarelle oppure molto molto cotte e dipende anche tanto dai fornelli che andate ad usare dalla fiamma e quindi insomma i tempi sono un po' indicativi poi ognuno insomma si deve regolare ci prende un po' la mano con le proprie cucine con i propri fornelli parliamo un po' dell'offerta lo so che volete sapere questo oggi questa pentola pentola è in super offerta a 69 euro e 90 pentola e coperchio che da listino solo il coperchio viene 109 euro e 90 oggi è un'offertona e soprattutto senza spese di spedizione quindi 69 euro e 90 senza spese di spedizione però bisogna affrettarsi perché fino al 31 dicembre oppure fino ad eserimento scorte secondo me il 31 dicembre non ci arriviamo con questi prezzi assolutamente dovete affrettarvi e prenotarla subito subito non la dovete assolutamente perdere perché questa è veramente un gioiellino in cucina è un gioiellino ci potete fare di tutto veramente di tutto i primi ripeto secondo me per la forma e per la capienza ci si può fare veramente di tutto anche una una piccola pizza ad esempio perché no pure che è quadrata comunque la fai tonda viene lo stesso bene qui dentro potete farci proprio tutto vediamo se mi fate qualche domanda sì infatti state dicendo che l'avete già qui stata perché precedentemente c'è stata di nuovo questa offerta che siete entusiasti sì è vero è vero questa non vi deve mancare nella vostra cucina questa qui non vi deve mancare assolutamente molto molto bella allora ci vorrà ancora un altro poco di tempo ovviamente questa è una pentola in alluminio alimentare che ha un rivestimento in polvere di minerale è bellissima è bellissima è anche resistente durerà nel tempo e veramente non ve la dovete perdere dovete prenderla allora si sente un profumino peccato che non si può sentire il profumo è proprio un peccato allora con la fiamma ancora ci vorrà ancora qualche qualche minuto perché si vabbè mi piacciono croccantine al massimo il risultato finale faccio una foto dopo e ve la metto nel gruppo così la potete vedere va bene andiamo parlavo di profumo proprio perché con questi con questo metodo Magic Cooker quando si cucina si sentono solo profumi e non cattivi odori ad esempio io sto facendo i peperoni che solitamente i peperoni lasciano in casa un odore pesante in casa e addosso anche invece con questo metodo Magic Cooker no non si sente niente l'altro giorno ho fatto il polpo qui dentro il polpo con le patate viene fantastico e non si sentiva assolutamente niente quando invece con il polpo solitamente con il metodo tradizionale diciamo tutta la casa è invasa dalla dalla puzza invece con questo metodo no e anche stasera con i peperoni niente non si sente niente solo buon profumo allora ho fatto un altro poco poco di acqua vi ripeto l'offerta e poi lascio terminare la cottura vi faccio vedere poi la foto la foto finale allora una signora mi chiede dopo leggo tutte le domande e vi rispondo ripeto l'offerta pentola quadrata 28 cm e alta 10 cm quindi bella grande 28 cm 10 cm insieme con il coperchio solo il coperchio da listino viene 109,90 euro oggi pentola e coperchio a 69,90 euro vi dovete affrettare perché l'offerta è valida solo fino al 31 ma fino ad esaurimento scorte quindi anche potrebbe finire prima vi dovete assolutamente affrettare 69,90 euro ripeto non ve la fate scappare questa offerta perché è fantastica questa pentola la dovete assolutamente tenere in casa allora finisco di cucinare i peperoni con le zucchine faccio una bella foto e ve la faccio vedere va bene ci vediamo alla prossima diretta ciao